Adesso con Rino Genovese per ammirare il grande spettacolo dell'acqua sul lago San Pietro a Monteverde. Effetti scenici straordinari, danza e recitazione tra getti d'acqua colorata che si alza per 80 metri nell'angolo di Irpinia dove si incontrano Campania, Puglia e Basilicata, a Monteverde, sul lago San Pietro ogni sera fino al 21 agosto va in scena la solidarietà, il grande spettacolo dell'acqua definito nel 2013 da Papa Francesco un esempio concreto di misericordia per la sua finalità raccogliere fondi per le opere dei redentoristi nel mondo. Abbiamo delle opere precise tipo la scuola di Badagascar che comincia dalla quarta elementare va fino al liceo con una casa di accoglienza per i ragazzi o ragazze che vengono dalla foresta anche un poliambulatorio, una clinica nelle Filippine e in Tanzania, un altro istituto educativo tenuto dai frati. Si inizia nel pomeriggio con lo spettacolo dell'aria e i campioni del mondo di flyboard al calar della sera prende vita un evento unico in Europa, laser di ultima generazione, volti nebulizzati, magici incontri di fontane, il frutto di quasi un mese di lavoro dei volontari della fondazione Insieme Per. Bisogna posizionare 300 chilometri di cavi, decine di migliaia di metri quadrati di piattaforme galleggianti, centinaia di luci. E si racconta la vita di San Gerardo Maiella, il santo dei poveri e dei bisognosi, vissuto proprio tra Campania, Puglia e Basilicata. Emozione, suggestione, spiritualità. A Monteverde si è spettatori di carità, pace e solidarietà.